La prima cosa di speciale è che nessuno la conosce, quindi già è speciale il suo. Nel senso che non la conoscevamo noi, non la conosceva lei, non la conoscevo io, non la conoscevano i cantanti e non la conosce nessuno. Bella, perché la sorpresa è bella. Io sono Francesca Scioti e in quest'opera di Astarto interpreterò il ruolo di Clealco. In quest'opera succede che Clealco scoprirà la sua vera identità, quindi quello di essere Astarto e il re di Tiro. Perché? Divertente? Divertente perché loro sono pazzeschi, c'è un cast pazzesco, la musica è bella, è una novità assoluta e quindi non vi potete perdere l'Astalto, è folle perdersi l'Astalto. E loro sono pazzeschi, veramente, c'è un livello incredibile, l'interprete, lui, l'orchestra. Cioè vedrete uno spettacolo veramente bello. È come andare ad aprire la cinematografia. Esatto. Cioè vedrete uno spettacolo veramente bello. Cioè vedrete uno spettacolo veramente bello. Cioè vedrete uno spettacolo veramente bello. Grazie a tutti.